A Natale, come mi organizzo? Ma guardi, con Skype, perché Natale è un altro pezzo di cuore che se ne va pensando di doverlo fare in tono minore, ma non abbiamo alternative. Allora, facciamo Natale su Skype, adesso glielo dico, cara mamma, facciamo il pranzo di Natale, mangiamo gli agnolotti via Skype, via Skype. Il pranzo di Natale, mangiamo gli agnolotti via Skype. Se chiudiamo le luci, se chiudiamo i negozi, se chiudiamo i centri storici, è la morte, l'anima, la socialità, la bellezza, il sorriso, la solidarietà, le comunità. Natale virtuale, seminare terrore, concorrenza sleale, di par normale, un danno sociale, culturale, la poesia, della messa di Natale. Il pranzo di Natale, mangiamo gli agnolotti via Skype, via Skype. Il pranzo di Natale, mangiamo gli agnolotti via Skype, via Skype. No, no, ai nonni, no, no, nonni. Seminare terrore, preoccupare. Skype. Ti invito tutti a non mollare.